Paesaggio siberiano in Valtellina. La nevicata, caduta abbondante soprattutto in alcune zone della provincia come la Val Chiavenna e Dilson Driese per stare alle basse quote, ha rinnovato lo strato di bianco che copre monti e prati anche sul fondo valle. Più massicce le precipitazioni nelle stazioni sciistiche dove le diverse decine di centimetri di coltre fresca garantiscono ovunque l'ottimale copertura naturale delle piste e il risparmio sui costi dell'innevamento programmato per la gioia dei numerosi vacanzieri e degli operatori turistici. Ma la neve in quota a fine dicembre non fa notizia. Come vediamo da queste immagini in città i fiocchi hanno cominciato a cadere su sondri o misti a pioggia dalla serata di ieri per poi intensificarsi nel corso della nottata con l'abbassarsi delle temperature che ha determinato uno strato ghiacciato e insidioso. Oggi previsioni rispettate dalle 8, scaduto il codice arancione per rischio neve decretato ieri dalla protezione civile regionale, la perturbazione è andata attenuandosi. Il diradarsi delle nubi ha così evidenziato lo scenario delle cime e dei versanti terrazzati imbiancati, mentre sul fondo valle la nebbia persistente ha determinato un paesaggio di un biancore avvolgente nel quale stentava a farsi largo il sole. Nessun particolare disagio sulle strade, nemmeno quelle di montagna, se non per le buche. Il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale unito al dilavamento di acqua e neve ha sbriciolato in più punti l'asfalto, soprattutto i precedenti rattoppi fatti per ovviare ad altre buche, obbligando ad una condotta di guida ancora più attenta per evitare di incappare in qualcuno dei numerosi crateri affiorati dal manto stradale. Non sono mancati, conferma la polizia stradale, danni ad alcune automobili proprio a causa delle numerosissime insidiose pozzanghere anche profonde che costellano soprattutto la statale nella parte laterale solcata dalle ruote.